E bello a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro Velo, oggi siamo sempre qui con il nostro fantastico Mansfield Town sempre in un episodio nuovo fortunatamente, vediamo se sarà l'ultimo c'è sempre questo dubbio con questo overall così basso abbiamo il Liverpool che è praticamente con i nostri stessi punti, al quarto posto siamo in casa loro quindi sarà una partita veramente tosta in Coppa diciamo che non sa cosa gli fosse preso ma non hanno giocato per nulla bene però ho paura che si vorranno decisamente vendicare in campionato quindi speriamo non ci massacrino troppo e ci vediamo in campo ed eccoci qua, comincia Liverpool Mansfield Town vediamo un po' cosa ne uscirà oggi ad Anfield in casa loro stavolta non hanno la scusa che sono stanchi, sono tutti belli riposati noi invece accusiamo un po' di stanchezza soprattutto tra Len e Herrera che ho visto che erano un pochetto stanchi quindi dobbiamo gestire anche con la panchina tutte le nostre forze qua intanto Maionese da quando è tornato a titolare non ha mai deluso fino ad ora però qua Fobor prende un brutto pallone attenzione subito al Liverpool Contiaco Alcantara che prova ad appoggiarla la tipo di copre benissimo attenzione qua Salah Salah contro Dickman Salah contro Dickman decide di tornare indietro appoggia per Arnold Arnold ancora su Salah Salah, Salah sempre per Arnold cross dentro per noi House che prova la botta milanese para tranquillamente attenzione qua Robertson per Dio Coyota mamma mia che chiusura di maionese regà Aurelien deve provare a lanciare lungo Gronell però non ci riesce ci riesce però adesso Gronell Gronell dai che c'è un pochetto di spazio Gronell salta bene il difensore Gronell prova il tiro a giro mamma mia che miracolo di Allison incredibile grande azione di Gronell che è un po' sparito dai radar in questo periodo cross dentro la ricerca di Len che però non riesce a colpire e si fa anche male incredibile si è spaccato Len lancio lunghissimo di Arnold per Salah che la controlla bene noi siamo un po' sbilanciati va Aurelien in copertura anzi no però Salah riesce a tenerla in campo noi house Arnold ancora per Salah che la tiene appoggia per Fabinho che prova a inserirsi Fabinho bella la palla per Dio Coyota mi sembra buco incredibile lì non ho capito perché non l'ha toccata né maionese né Dickman si scontrano addirittura qua milanese diciamo non ho capito sotto le gambe ok 1-0 Liverpool al quarantesimo attenzione qua Robertson Robertson cross dentro la TV2 chiude bene però ancora Liverpool però qua Fabinho sbaglia possiamo ripartire invece no perché finisce qui il primo tempo un primo tempo brutto da parte nostra abbiamo avuto pochissime occasioni l'unica con Gronel quel tiro al giro che poteva creare qualcosa poi si è spaccato pure Lenn che adesso andrei subito a sostituire per per Dike peccato regà perché si può fare almeno un pareggio una vittoria la vedo dura perché la davanti loro fanno veramente male e speriamo nel pareggio come al solito come l'hanno scorso in Europa League se noi qua Liverpool in avanti questi passaggini a cercare uno spiraglio si tornano sempre da Roberson attenzione qua Mané Mané ottima la chiusura però di Herrera prova a lanciare Sedorf ma ancora Roberson attenzione che qua siamo un po' sbilanciati attenzione Dickman chiude bene Aurelien Ophobor dai che è partito Sedorf e Roberson in avanti possiamo cercare il buco con la velocità di Sedorf 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 niente miracolo ancora di Allison e Willock non riesce a tenerla sbaglia però la difesa qui regala un pallone a Willock che prova con un rimpallo anche fortunato mamma mia che però la chiusura di Fabinho è qualcosa di incredibile prima di mettere l'Ubala magari Roberson è un po' stanco entrerà anche per il Liverpool Majoral calcio d'angolo che non ha creato pericoli prova ancora Aurelien cercherà un po' di spazio con questo pallone dietro spazza via la difesa mamma mia che lancio qua per Salah tutto solo davanti a Milanese che prova in un'uscita pazza riesce in un miracolo incredibile cosa si è cagato l'egiziano proviamo a ripartire con Groenel che fa una grandissima cosa adesso prova a passare dal centro per Willock ma Van Dijk capisce tutto e non si passa neanche di lì mi sa che la partita finirà qui peccato perché noi ci abbiamo provato ma nulla questo Liverpool ha retto bene soprattutto in difesa perdiamo 1-0 un pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più giusto ma purtroppo il campo ha deciso così oggettivamente non una partita così movimentata peccato scendiamo a 67 non stiamo seguendo i piani come ha discusso in inizio del Stato generale l'obiettivo di espandere il nostro marchio rappresenta il traguardo importante per il club e ho capito che che rappresenta una cosa importante come ha ampiamente discusso l'obiettivo di far crescere il club sotto il profilo economico rappresenta e ho capito ma non è che ci posso fare molto Jack Lane si è spaccato pure per 4 settimane mannaggia lui 4 settimane senza Len direi di aggiustarci così peccato qua per Grogan che non se l'è preso neanche nessuno in prestito mannaggia pure lui peccato veramente eccoci qua siamo arrivati alla partita contro l'Arsenal forse la nostra ultima partita visto che siamo scesi più del solito siamo a 66 addirittura e veramente non so cosa dire di termina stagione con un margine di quaderno di 100 milioni siamo a 21 quindi direi che siamo belli distanti da un grande quaderno forse andrà fatta una cessione importante se riusciamo ad arrivare a gennaio però adesso concentriamoci su questa partita contro l'Arsenal la classifica marcatori mamia quindi l'Arsenal ciasso con Sly mi zica sto già a piangere ci vediamo in campo Sobo Sly miglior marcatore di questa Premier League quindi c'è da stare veramente atenti comincia adesso Mansfield Town Arsenal vediamo un po' cosa ci saprà regalare questa partita dobbiamo teoricamente rialzare la testa dopo la sconfitta brutta contro il Liverpool contro un Arsenal che ha veramente uno squadrone quindi un po' preoccupato lo sono sinceramente infatti fa subito Richarlison per Madison che prova adesso a impostare ancora Richarlison stiamo attenti che questi quando attaccano secondo me ci fanno un male bestia qua però sbaglia tutto in un maionese veramente monumentale è partito Gronelveld dai Gronelveld ti prego apriamo subito le danze così Gronelveld e apre le danze l'olandese che non si vedeva da un po' nella classifica dei marcatori finalmente torna il gol gioia sfrenata da parte di questo giocatore meno male ottimo il lancio di maionese che recupera un pallone praticamente a centro campo e si sblocca in questa Premier League Gronelveld all'ottavo minuto mamma mia che palla recuperata anche da Dickman a centro campo che si mola verso la porta qua però pretende forse un po' troppo adesso attenzione perché riparte l'Arsenal e finisce qui in questo primo tempo che veramente dopo il gol non so cosa vi metterò perché non è successo niente se non un'occasione di Dike sprecata malamente e anche un'altra di Dickman che ha provato a cercare un euro goal partendo da una palla recuperata a centro campo però per il resto il nulla cosmico vediamo in questo secondo tempo se si viacizza un po' questa partita la prossima partita sarà contro il Chelsea ma cos'è? che calendario abbiamo? una roba indescrivibile tutte le big stiamo affrontando una dietro l'altra poi cioè proprio è un complotto contro il velo qua qua veramente bisogna chiedere farsi due domande perché se non è un complotto questo qua però Gronelveld 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 dai vai per questa doppietta miracolo di leno però calcio d'angolo dalla bandierina Gronelveld dalla ricerca della testa di Dickman che prende la traversa porca miseria brutto intervento lì di Aurelien attenzione all'Arsenal che sembra essersi un attimo svegliato qua Maionese altra palla recuperata addirittura al centrocampo prova ad andare lui Maionese si salta un difensore salta anche l'altro servendo Lubala potrebbe mettere un bel cross in mezzo per Willow che la palla rimane lì ma dai che non riesce a cercare il tap-in attenzione qui Soboslai deve chiudere Dickman e chiude benissimo può lanciare Lubala dai Lubala che sei fresco Lubala Lubala salta un difensore prova a saltarsi anche l'altro decide di accentrarsi cambiare il gioco per Gronelveld che fa una grande giocata mamma mia che azione qui Aurelien Aurelien miracolo di Leno la palla rimane lì è Willow mi sembra è lui o non è lui è lui o non è lui è proprio lui Willow chiude a tempo veramente novantesimo scaduto dopo il miracolo di Leno Aurelien li va lì a muso a muso a dirgli che cavolo mi son cagato qui che riflesso di Leno meno male che c'è Willow per un 2-0 che mi rende un po' più felice anche se è stata una partita veramente di quelle un po' noiose dove veramente non è successo nulla e fortunatamente è finita 2-0 per noi quindi su questo sono molto soddisfatto un'occasione pericolosa credo l'Arsenal meno male che il milanese c'è sempre non delude mai infatti come possiamo vedere dalle statistiche un tiro in porta continuiamo ad avanzare in questa stagione che non si ferma più arriviamo alla partita direi contro il Chelsea perché c'è lo stop delle nazionali questo è vero che sia il momento decisivo dove la nostra dirigenza ci vuole mandare a casa visto che c'è tanto tempo ci possono pensare più a lungo magari ci ripensano e alzano un posto overall che è veramente inguardabile arriviamo adesso alla partita contro contro il Chelsea siamo fuori casa la classifica dei marcatori non vede nessuno dei nostri in vetta anzi nelle prime otto posizioni direi di andare ancora con questa formazione qui titolare Len si è ripreso ma non del tutto quindi direi di non rischiarlo qua mi sono portato dietro anche Grogan perché vorrei farlo giocare perché mi dispiace veramente un sacco vederlo scendere così detto questo ci possiamo immergere in questo match che vedo molto difficile il Chelsea è quarto a 21 punti noi siamo sempre comunque lì a 20 vediamo il campo cosa dirà ed eccoci qua è tutto pronto in diretta da Stanford Bridge Chelsea Mansfield Town sfidiamo un'altra big del calcio inglese che ha fatto degli acquisti niente male ho visto il capitano Marchignos ho visto Rodrigo sulla destra quindi veramente uno squadrone da 10 infatti qua subito parte molto aggressivo con Kanté Kanté che viene però arpionato dal nostro centrocampista Aurelien che fa subito un doppio scambio con Sedorf che ha già campo per volare è anche fresco Sedorf dai subito dopo i pochi minuti per Gronell che prova addirittura una semi rovesciata ma arriva di testa il difensore a metterla in calcio d'angolo Gronell dalla bandierina cercare sempre il solito Dai che esce però bene Kepa che la mette su Ofobor che potrebbe anche provare la botta ma Kepa attento Willock serie di finte provate ad andarsene accante ci riesce solo per un attimo qua Ofobor recupera un bel pallone che può servire per Dyke che si gira la mette lì per Willock e non ci credo il miracolo di Kepa il miracolo di Kepa qua ci siamo ancora noi però ma no Willock cosa ti sei mangiato che errore da parte nostra attenzione qui il Chelsea Werner allarga tutto per Rodrigo che ha un po' di spazio palla dentro Maionese sfiora quel poco che basta per evitare il vantaggio dei Blues Love Tooth Chick però ancora sono qua davanti con Kanté di Ickman che è chiusura Aurelien Ofobor prova a lanciare Willock che mette un bellissimo pallone per Dyke che prova ad andare Dyke col cross dentro per nessuno Dyke ve lo l'appoggio lì per Ofobor Willock Gronell si spinge addirittura così in avanti la tipo di E che è una buona idea per Dyke ma perché devono sempre rovesciare però ci siamo ancora noi con Willock che prova la giocata forse lì c'era un tocco di mano ma c'è anche un miracolo di Kepa lì forse c'era un tocco di mano e di Kanté il VAR qua non interviene ancora noi da calcio d'angolo ma niente la difesa del Chelsea regge molto molto bene i nostri attacchi sembra un po' una partita fotocopia come quella del Liverpool speriamo non finisca proprio nello stesso modo e finisce qui il primo tempo 0-0 alla fine di questi primi 45 minuti che hanno visto un Mansfield vi dirò buono ci siamo giocati un'occasione veramente che non ci ricapiterà mai più con Willock però abbiamo detto bene questi primi 45 minuti mi aspettavo peggio ora che l'ho detto ovviamente 5-0 finisce per il Chelsea bella qua la giocata Aurelien Grunelveld mamma mia come l'ha liberato Grunelveld può partire Grunelveld c'è Sedorf sull'altro lato la palla però è più allettante per Willock che però in anticipato di netto mamma mia qua che lancio per Pulisic deve chiudere Rer assolutamente Pulisic che va stato al centro per l'Ottof Cic no vabbè pure il Tottenham dopo ma che episodio è è l'episodio delle big questo incredibile Grunelveld dai che qua c'è un po' di spazio Grunelveld 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 vai tu Grunelveld miracolo di che la palla rimane lì non ci credo pure questo ci siamo cagati ma poi era sempre Willock ma non ci posso credere Rer altro pallone perfetto recuperato chiude però si chiude qua il Chelsea che recupera Rodrigo cross dentro la palla rimane ancora lì per Cante viene arpionato da Aurelien e sarà punizione da una posizione un po' scomoda Rodrigo sul pallone cambi pure per il Chelsea e c'è Lovtufci che entra McTominay attenzione qua Rodrigo parte traversa traversa del Chelsea insomma è qua il Chelsea con Werner Werner mamma mia Maionese lo tampona sarà calcio di punizione qua meglio che metto l'uomo perché se prima ha preso traversa da lì non lo so immaginare da qua parte no è schema è schema mamma mia meno male ancora il Chelsea non si capisce nulla Taylor si fa portare via la palla il tiro respinto carambole strane e la partita forse finirà qui o forse l'arbitro fa fare l'ultimo affondo e invece no finisce qui una partita brutta in questo secondo tempo meno movimentata tolta la traversa da calcio di punizione altre occasioni ghiotte non ne sono arrivate altro pareggio abbastanza deludente però comunque per noi va bene perché queste sono grandi squadre pareggiare è un ottimo risultato ma potevamo vincerla questa peccato per le occasioni veramente incredibili che ci siamo mangiati però va bene così dai la classifica a questo punto continua a sorriderci e adesso arriva un altro big match contro il Tottenham ancora 68 qua l'idea che mi sono fatto è che siamo 68 secondo me perché non avendo più la competizione europea non riusciamo più a fare i guadagni che facevamo l'anno scorso e quindi si sono incavolati così possiamo dire questa è l'unica spiegazione che mi sono tra virgolette dato intanto vediamo qua se trovo qualcuno di interessante ma non sembra proprio direi di no questo 17 anni basta prenderne che sono pieno io voglio 15 anni fenomeni qua chat con Len che si è completamente ripreso quindi direi che ci possiamo vedere assolutamente in campo in questa partita contro il Tottenham andiamo a prenderci il nostro Len portiamoci dietro Dyke che non si sa mai e anche Lubala peccato per Bradaric porca miseria tutto pronto direi che possiamo scendere con la squadra titolare direi assolutamente anche perché poi dopo due giorni abbiamo il West Ham che andremo a giocare con le riserve altra squadra comunque scomoda e ci vediamo in campo ed ecco qua è tutto pronto comincia Mansfield Town Tottenham vediamo quest'altro big match di di oggi cosa ci saprà regalare se un altro pareggio una sconfitta vediamo cosa ne uscirà un Tottenham che ho visto abbastanza rivoluzionato senza Kane senza alcuni pilastri che mancano quindi possiamo approfittarne tra virgolette ovviamente perché la squadra rimane sempre di altissimo livello addirittura con Foden che ho letto adesso cioè il City è riuscito a farsi fregare Foden dal Tottenham veramente un mercato assurdo attenzione qua Berguin in avanti Berguin contro Herrera Berguin cerca addirittura un tiro che sorprende per un attimo milanese meno male che c'è il palo da aiutarlo mamma mia no non ho parole mamma 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 mia mamma mia ancora Tottenham ancora Tottenham ancora Tottenham ma che gol abbiamo preso che gol abbiamo preso ma cosa devo vedere cosa devo vedere come cioè gli si è rotta la testa da Herrera tutto parte da quella palla persa da Herrera su rimessa che lì proprio poteva dare un colpo di testa come ha sempre fatto invece no dopo 16 minuti Gomez firma il vantaggio del Tottenham un vantaggio veramente deciso da FIFA questo perché è clamoroso Willow, Klen Grunelveld subito a suonare la riscossa qua mamma mia che bel cross il duo olandese Seedorf Grunelveld firma dopo tre minuti una grandissima parità sistema tutto FIFA si vedeva capito che aveva fatto fare un gol veramente stupido il taglio è fantastico di Seedorf ad anticipare il terzino ed è subito 1-1 tra l'altro notavo anche che non c'è manco più Son quindi proprio ha venduto i suoi veterani il Tottenham comunque li ha sostituiti con Berguin che era già loro e Foden direi che ottima ottimo cambio anche con Gomez tutti giocatori molto giovani che diventeranno sicuramente dei fenomeni qua proviamo l'ultima occasione di questo primo tempo con Willock che però perde palla ancora il Tottenham con Foden l'ultimo a fondo vediamo se l'arbitro farà finire questa occasione penso proprio di sì ma Maionese qua fa un grande intervento però Foden si ritroverà rende la palla ma non trova spazi torna indietro e fa finire questo primo tempo peccato perché il gol del vantaggio dove poi è scaturito il nostro gol del pareggio gliel'abbiamo regalato noi e un po' FIFA perché Herrera veramente lì che la colpisce in quel modo di testa è abbastanza scandaloso ma va bene così vediamo questo secondo tempo di alzare la testa e cercare magari una vittoria che potrebbe dare tanto morale e tanta soddisfazione ma comunque c'è da stare attenti perché non è assolutamente da sottolotare questo Fodenam Aurelien recupera un bel pallone Gronelwell prova le giocate l'appogge indietro per la Tibodio che può riservirla a Gronelwell c'è un po' di spazio Gronelwell bella la finta prova sempre il suo tiro a giro intercettato però dal difensore Gronelwell prova a tenerla lì bello il passaggio raso terra lì lo scambio Aurelien Willow che Aurelien firma un grandissimo gol uno scambio perfetto col petto Willow che gli ha tenuto ora Willow che era Len me li confondo molte volte qua Aurelien poi riesce a sfondare vediamola qua se era Willow mi sembra sì perché Len forse era quello lì in mezzo quindi sì era proprio Willow che serve un grandissimo parole per Aurelien che di sfondamento distrugge tutto e cerca un gran gol di cattiveria bellissimo acquisto questo centrocampista regale ve lo straconsiglio perché è veramente una bestia ed è 2-1 Mansfield attenzione qua attenzione qua Ofobor a tu per tu col no no parole non ho parole ma come come si fa eravamo stati fortunati con un rimpallo Ofobor se la ritrova lì e niente traversa clamorosa il gol proprio quello del K O non riesce a a firmarlo noi veramente questi gol poi ce li mangiamo in maniera incredibile però qua altra bella risposta da parte nostra con Gronelvel dai Gronelvel vedo particolarmente ispirati un po' tutti infatti qua per Sedorf che porca miseria pure questa ci siamo mangiati sta facendo comunque una buona prestazione qua vede il movimento perfetto di Len può andarsene dire di velocità Savic Len bella la finta prova il cross dentro per Willow no regalavo vista dentro non ci credo l'ha deviata il difensore non ho parole calcio d'angolo Gronelvel dalla ricerca di Auri e Lien di testa che non riesce però a staccare prova maionese che cade il contrasto attenzione qua adesso la ripartenza Tottenham indietro qua Cugna oddio no Cugna che incubo attenzione guarda lì come si è inserito Milanese in uscita mamma mia che rischio che rischio guarda lì Cugna è entrato pure Kane sono entrati pezzi grossi ho capito ho capito com'è la situazione qua però attenzione in questa ripartenza dai che sono sbilanciati vai Sedorf vai Sedorf mamma mia quanto corri Sedorf dai qualcuno che che si ferma indietro Moriba mamma mia che sarà cinesca parà bene però il portiere ancora calcio d'angolo altro cambio dai Gronelvel la testa di Dickman centrale e finisce qui grandissima vittoria Mansfield veramente un'ottima prestazione abbiamo rischiato grosso ma ci siamo difesi alla grande 2 a 1 meritatissimo 69 di valutazione generale saliamo di 1 prendiamo un punto quindi direi che si può anche sorridere sotto quell'aspetto adesso andiamo a vedere questi resoconti e poi direi che possiamo salutarci qui oggettivamente non ho ancora letto i commenti dell'episodio scorso quindi non so che squadre mi avete consigliato però fortunatamente ancora non ci stanno mandando via e quindi oggettivamente finché non ci mandano via direi di rimanere assolutamente qui dove siamo perché non voglio assolutamente abbandonare il mio Mansfield voglio arrivare almeno in Champions League non dico a vincerla ma almeno in Champions con loro direi che possiamo chiudere qui l'episodio la prossima sarà contro il West Ham direi che adesso arriveranno partite un po' più tranquille con West Ham Wolverham e Aston Villa e poi troviamo il Barley in Coppa ci aspetta ancora un lungo cammino prima di arrivare al mercato di gennaio sperando sempre di arrivarci con squadre ancora abbastanza hostiche nel prossimo episodio vediamo West Ham Wolverham Aston Villa e Barley e poi ne abbiamo altre 4 così poi arriviamo perfetti nel mercato di gennaio quindi in due episodi siamo al mercato di gennaio e che dire anche questo episodio è giunto al termine anche questo episodio fortunatamente siamo ancora risaduti sulla panchina del Mansfield se il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace e un commento dal vostro velo è tutto noi ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video